Sì Tonino, buon pomeriggio a te, telespettatori che ci seguono da casa. Siamo a Termoli davanti al pronto soccorso dell'ospedale Santimoteo, ospedale che da questa mattina è stato chiuso al pubblico. Una situazione surreale quella che si sta vivendo in queste ore all'ospedale che è praticamente vuoto. Sono stati chiusi gli ambulatori, sono state rinviate le visite specialistiche, è stato chiuso il laboratorio analisi che rimane aperto solo ed esclusivamente per le emergenze. Sono stati chiusi anche i reparti. Ai reparti non possono accedere i parenti per le visite e sono reparti chiusi anche allo stesso personale sanitario, quindi contatti ridotti al minimo. Per quanto riguarda i pazienti che potevano essere dimessi, stamattina sono stati dimessi quelli che stavano meglio, altri invece sono rimasti ricoverati come è giusto che sia. Per quanto riguarda invece i casi accertati a Termoli, appunto è stato confermato che al momento sono quattro, di cui tre sono operatori sanitari. Due di questi, moglie e marito, erano rientrati al lavoro lunedì dopo un periodo di ferie senza sintomi. L'altra persona contagiata è la figlia. Per questo motivo l'ASREM ha disposto, proprio per i contatti avuti sull'ambiente di lavoro, dei tamponi che si stanno effettuando qui all'ospedale, al personale, quindi medici e infermieri che in questi giorni sono venuti in contatto con la famiglia. Le operazioni sono in corso e ne sapremo di più tra qualche ora. Dicevamo a Termoli questa mattina una situazione surreale, reparti deserti, corridoi vuoti, ma sentiamo nelle interviste che abbiamo raccolto qual è stata un po' la reazione degli utenti. Signora, tutto chiuso in ospedale? Sì, infatti io sono venuta a prenotare che dovevo fare le analisi e ho trovato tutto chiuso, quindi hanno detto che non è niente, cioè, dobbiamo aspettare. Dovevo fare una visita a Pneumato. Non l'avete fatta? Sì, che stiamo prenotate, oggi dovevo fare la visita. Che vi hanno detto? Gli hanno detto niente, non ci hanno fatto entrare e basta. Da dove venite? San Martino in Benzeglio. Chiuso perché io non ritirerò gli esami, quindi... E' venuto per quello, per ritirare gli esami? Per ritirare gli esami, purtroppo. Che le hanno detto? Quando può tornare? Non si sa. È successo che mio merito deve fare il controllo del pacemaker, d'accordo il 12. Noi questa mattina abbiamo telefonato, in cardiologia non ci ha risposto nessuno, quindi abbiamo detto ok, andiamo a vedere come ci dobbiamo comportare. Sta di fatto che siamo arrivati qua e dice, eh ma non dovevate venire. Ho capito, ma se voi rispondete al telefono e mi date le informazioni, semmai noi non ci muoviamo da casa. È chiuso, tutto chiuso. Non si possono ritirare le analisi, neanche fare le impegnative. E hanno detto qualcosa su quando tornare? No, sta il receptionist con la mascherina e tutto bloccato. Grazie. Grazie.